Questa è l'iniziativa che nuovamente il Palazzo Madama propone alla città di presentare un capolavoro singolo in occasione delle bestimità natalizie. In questo caso la scelta è caduta su un capolavoro dell'alba del Rinascimento italiano, un ritratto di profilo di uno dei principi delle corti italiane. Siamo nel 1441 e il personaggio è Dionello d'Este, Marchese di Ferrara. Il pittore che esegue questo ritratto è un pittore molto celebrato in quelle generazioni, Antonio Pisano, detto Pisanello, che in questo caso addirittura gareggia con un altro artista proprio nella realizzazione di un ritratto del Marchese di Ferrara. Pisano poi lavorerà per diversi altri corti italiani, lavorerà anche per il Papato a Roma, ci sono i suoi rapporti con Milano, con Mantua soprattutto, ed è un artista molto apprezzato e molto celebrato anche dai letterati contemporanei che spesso parlano della sua abilità del riprodurre il dato di natura nei suoi dipinti, nei suoi disegni che sono anche molto raffinati, molto noti, molto ben consapevoli. Un'altra opera che si aggiunge a quelle già esposte, siamo anche contenti che si tratti di un ritratto, perché questo è un po' l'anno in cui abbiamo cercato di fare un percorso sul ritratto. Questa è un'opera emblematica anche del passaggio da una certa sensibilità dal gotico internazionale, quindi da dipinti che puntano sulla ricchezza della materia, verso il Rinascimento, un ritratto di profilo in cui Pisanello riecheggia lo studio delle monete antiche e quindi attraverso l'antico si arriva alla rappresentazione dell'uomo, com'è e dov'è, quindi è anche un utile paio con il grande ritratto di Antonello da Messina che è nel museo, quindi speriamo che i visitatori apprezzino anche la possibilità di fare un percorso a due tappe, un antifatto e poi la grande ritrattistica del Rinascimento dentro il museo. Grazie a tutti.